Giuntoli lascia il Napoli, cambia tutto per il sostituto, spunta un nuovo nome a sorpresa. Dopo la vittoria dello Scudetto, una delle notizie che continuano a circolare in ambito Napoli è quella che riguarda il sempre più probabile addio di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro, dopo otto anni passati all'ombra del Vesuvio, dovrebbe lasciare il club per approdare alla Juventus da mesi sulle sue tracce. Il Napoli sembrava aver puntato su Pietro Accardi, attuale DS dell'Empoli, come suo sostituto, ma secondo tutto mercato web le parti non avrebbero ancora intavolato una trattativa. A sorpassarlo in pole per prendere il ruolo di Cristiano Giuntoli, attualmente sembra esserci il DS del Bari, Ciro Polito. Il direttore sportivo sembrerebbe aver avuto già ben due incontri con il Napoli e si è parlato per lui di un futuro in azzurro. Alla domanda su un suo possibile futuro in casa Napoli in conferenza stampa, Polito ha risposto dicendo che sentire il suo nome accostato al club azzurro è per lui motivo di grande orgoglio. Vi piacerebbe come nuovo direttore sportivo del Napoli?